Che giornata, che giornata, che giornata morongo Mamma Polita, ti vedo agitato Che succede? E mi vedo agitato, per forza, per forza guarda che mi vedo agitato Che sai che mia moglie non possono avere figli? Sì, ma lo so Sì, sì, lo so Sai che cosa ha fatto mia moglie a mia esaputa? No Ha adottato un bambino di due mesi e per giunta cinese Vabbè, voglio dire, non potete avere figli Mi pare curioso che tua moglie prende in adozione un bambino Ma perché poi cinese, giapponese, australiana, africana Che differenza? I bambini sono tutti belli, tutti i bambini del mondo sono belli Che poi i tuoi cinesi? Qual è il problema? Qual è il problema? Quello ma non parla Ma che arriva a 5-6 anni e si mette a parlare il cinese Chi non capisce a quello? Un vero